Fai uso di droghe da Rave? Rave? Cos'è il 1996? L'aggressore che lei ci ha appena descritto. Sembra uscito da un film dell'horrore. Cenerantola. Scream. Cenerantola è solo un film, non è reale, lo sai vero? Non lo so, ma voi l'avete visto? Credi veramente che sia stata lei a farlo? Cenerantola? Io non sono ritardata come Neve Campbell, ok? È ovvio che si tratta di qualcuno vestito come lei. Ehi, deve averti eccitato molto. Non stiamo parlando di un film porno. Chiama se ti viene in mente qualcos'altro. O se succede qualcosa. Ma certo, vedrò di telefonarvi appena mi ammazzano. Ehi, una ragazza della tua scuola è morta. Sul serio.